Musica Fermati otto scafisti con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per omicidio volontario plurimo a seguito dello sbarco avvenuto presso il porto di Catania lo scorso 17 agosto. Il barcone era salpato dalle coste libiche con a bordo 362 migranti provenienti dall'area subsahariana e medio orientale, dei quali 49 sono morti nella stiva del peschereccio affondato. L'intervento di soccorso è stato operato da una nave della Marina Militale Italiana intervenuta lo scorso 15 agosto e che aveva trasferito successivamente i migranti e le salme a bordo del pattugliere norvegese Siem Pilot, impegnato nel Mediterraneo nell'ambito del dispositivo Triton 2015. Tra questi otto è risultato uno essere il comandante del barcone, mentre gli altri membri si occupavano della distribuzione dell'acqua, della disposizione dei migranti e, dato il gran numero di persone a bordo, del mantenimento dell'ordine. Ruolo che veniva esercitato con violenza, mediante calci, pugni, utilizzo di bastoni e cinghie, soprattutto nei confronti di quei migranti che cercavano di risalire dalla stiva in cui erano ammassati. Grazie per la visione!